Salutate all'Innes Conference! Sono venuta all'Innes Conference perché ho capito quanto può essere di valore un evento del genere dove ci sono tantissimi professionisti che ti possono spiegare non solo che cos'è il digital marketing ma anche come approcciarti alle persone, alle vendite. A me si è presentata l'occasione di poter partecipare a questa conferenza e quindi conoscere tutta la community che fa parte di questo grande progetto ho accolto l'occasione e sono venuta qui. Mi aspetto sicuramente qualcosa di grandioso so che sarà qualcosa di grande che imparerò sicuramente tanto Che cosa ci aspetta domani? Domani è un giorno importante e sicuramente cambierà la vita a molte persone Il mindset secondo me sarà la chiave vincente di questo evento e mi raccomando BG News Make Cash! Mi aspetto di imparare ancora di più e di avere sempre più confidence con le nuove tecnologie e per cui grande, tutti all'Inners! Sono qua proprio per formarmi da persone che veramente possono prendermi per mano e portarmi dove voglio andare Questo è il secondo evento di MG lo consiglierei a chiunque, a chi inizia, a chi ha già un progetto e a chi vuole esplodere totalmente come è successo anche a me Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501